Per Gino Paoli Sono d'accordo Mi si è piaciuto, ottima proposta Gino Paoli Il cielo in una stanza O una lunga storia d'amore Quella ascoltiamo Senza fine Sì, questa qua, questa qua, questa è bellissima Sta bellissima Senza fine Che di solito la cantava con Non mi ricordo con chi Con Che cazzo la cantava sta canzone Con Ornella Vanoni Mi hanno bombato Alla fine Gino Paoli e Ornella Vanoni Io mi stavo chiedendo In questi giorni Non so se hanno bombato Sapine Siamo contro un mazzo Giorioni Bene Dovrebbe essere un buon match up Si è bombato la Sandrelli Pure Si è bombato a tutte Gino Paoli Era un po' il poeta maledetto ubriacone Era un po' il Bogiac Horseman Della canzone italiana Amare Senza fine È successo Quindi alla fine non è vero Che era un Yorion deck Siamo molto contenti di fare questa cosa qua Non ho capito che mazzo è lui ancora Verde nero Verde nero bianco Che cazzo è Mazzo che non esiste forse Un Abzan Io appoggio questo Io questo buon crusher Gli appoggio allegramente Ah è sposato Con la Sandrelli Ok La Vanoni si è fatta a mezzo mondo Quindi può darsi L'ottima Ornella Vanoni Ornella Vanoni si è fatta anche mese Per questo È stato molto bello Picchio Occa a lei Ma cos'è questo mazzo? Un mazzo abbastanza semplice da battere Sembrerebbe al momento Questo lo perdiamo 2-0 Beyond the gold No 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 Direi di no Direi che è un po' forte Ma forse sai che è un ibrido Magari gioca da un certo punto L'ultimatum in faccia Ci gioca Potrebbe essere sai Come facciamo opt Perché non vogliamo saltare in drop Penso Via frostbite Ce n'abbiamo un altro in mano Cerchiamo terra Vabbè anche counter Non è male come pescata Botta Attenzione A inizio una canzone Che non abbiamo mai ascoltato Nella nostra vita Il diavolo rosso Il mazzo di Crocades Beh non sta andando benissimo Mi pare Il pupazzo entra All'obstruck No Perché dice La non è counterato l'altro Eh perché Poteva avere un costo 3 Che poi passava Tremana per tremana Altro counter Non male Busca Buono a QC Vai Qua non fortelliamo So it coming Perché potremmo voler fare Sia counter Che frostbite Penso che qua Counter lo vogliamo fare Esattamente sempre Potevo fare anche Brothers in realtà Vabbè Va bene anche Un buon counter Dimentica la strada Bello Che non abbiamo Il mana Brasenborrover Dobbiamo tenerla Non so se Qua rimbalzargli La pedina Però se mi fa poi Un altro elder gar Che l'ha otterza Al massimo Frostbite Sulla pedina E gli faccio 4 danni Probabilmente ci sta E rimaniamo con Brasenborrover Open Se lui appoggia Un altro gargagozzo Qua Possiamo rimbalzargli E lo vinciamo Il fatto è che Noi non abbiamo Rimbalzato prima Brasenborrover Non abbiamo rimbalzato No vabbè Ci sta invece Fare frostbite Qua Che gli sta dando Un torno in più di vita Se gli lasci la pedina O non una terra E qualsiasi creatura Lui gioca Gliela possiamo rimbalzare Anche questa Volendo Mammuzio Ok Ok Per questo nello passa Noi qua Penso Che giochiamo Brothers Diretta Lo portiamo a D- Meno Pochi 1 Pochi 1 Fortellazziamo Passiamo e passiamo E passiamo Siamo rimasti Con poche terre In questa partita Mi ho fatto 19 danni Di buon Crasher Giant Solo Solo E comunque Dea dell'esplicito Ah ma abbiamo vinto Nel frattempo Vedi 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 Abbiamo distratto Ma mi aspetto Great Angel O un mazzo così Penso di sì Ci potrebbe stare Sales Scorching Dragonfire Lo voglio Mazzi lui E cos'altro Sono un frattempo Mi pare buona Scorching Dragonfire Non lo so Onestamente Devo capire Conosco Veramente poco Il mazzo Dell'avversario Mi ci raccapezzo Non credo Di volere Scorching Dragonfire Tutto sommato Era il Dick Banner Serve per fare Questo di quarto Turno Chiedo per un amico Devo togliere Due figurine Negate Mystical Dispute Tenderei a non Mettere Negate Stical Dispute Assolutamente No Questo si potrebbe Penso Inserire Ma Solo per Great Angel Se gioca Great Angel È forte Qua Togliamo O2 Opt O2 Gravenlor Penso O2 Gravenlor Che sono Più lenti Opt Più Fast Contro di lui Ci interessa Essere più Fast Mentre la Combo La terrei Assolutamente Poi c'è solo Questo cambio Metto Due Sinder Class Ma al posto Di due Due Veschilli Sono un po' Lenti Southcoming Costo 3 on the draw Però Vabbè Teniamoli Chi era Sta Dea Va Dea Per niente Dai Si chiama Befit Pilates Ah Ecco cosa Ma infatti Si sta In una palestra Lei Lei è una maestra Di Pilates Pilates Sapete che cos'è Il Pilates Non lo sapete Ignoranti Non lo sapete Io non ho mai fatto Pilates In vita mia Però So che è utile Così mi hanno detto Terremo Potremmo Potremmo fare subito Frostbite qua Perché lui gioca Le robe moleste Potremmo anche Non farlo Non lo faccio 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 Vedo giocare il mana Blu Tappato almeno Torno dopo Posso fare sia Opt che Frostbite Volendo Ho addirittura Fortellazzare Sawit coming Vediamo Sono così Ho paura che c'ha Fulmire knight Durex Male Male Mi toglierà Almeno Frostbite Credo Deve rimane Il signor Jerry Scott Vabbè No Toglie il counter Vuol dire che c'ha Tipo qualcosa Di invincibile In mano E forse Non ha nessuna Avventura Forse non ha Avventure Il ragazzo Ma io qua Tenderei a non fare Di nuovo Frostbite Tenderei a fare A fortellazzare Behold the multiverse Lui potrebbe non avere L'Obstrack Anzi sicuramente Non c'era l'Obstrack L'avrebbe giocata L'avventura Potrebbe avere il mammuzio Il mammuzio Io lo secchiamo Con Frostbite Sicuramente non gli ammazziamo Jerry Scotti Con Frostbite Per Jerry Scotti Ci vuole Sinder Clasm Ogni rimozione Bisogna incastrarla Sulla giusta creatura Possiamo certo Sprecare Frostbite Su un umile Jerry Scotti Toglio gli occhiali Perché sono un po' ciecato Stasera Avrei il Gargarotto Vero Probabile Infatti noi In counter Li abbiamo tenuti Principalmente per Gargagozzo Il Gargagozzo Il Gargagozzo Avversario non fa niente Ma perché c'ho gli avversari Che muoiono soli Fanno niente Perdano e basta Ma proprio facile Da ucciderli Stiamo battendo Troppo facilmente No me li pesco Entrambe Ah ma era il mio turno Ma porca puttana Pensavo fosse il suo Niente Lasciamo stare Pessimo Penso che glielo sparo Pensavo fosse il suo turno Cazzarola Vabbè Vabbè Vinza Vabbè 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 Buonasera Galax Durex Vabbè Di anima niente Non cambia molto Ciao Song Request Ah ok Subito dopo Diavolo Rosso Ci pensi Diavolo Rosso Song Requestata Tanto per cambiare La loro discrezione Mi antica E acqua E neve Diavolo Rosso Chata Ma la terra l'ho giocata La terra l'ho giocata Questo turno Non mi ricordo nemmeno Ho giocato terra Chiedo Chiedo Alla chat Se ho giocato terra Ma ci vuol dire Un contatore Qui delle terre Non ho giocato terra L'ho giocata no Non trova sulle terre Dove è scritto Do Sì o no Sì o no Vabbè Fanculo Faccio questo Dritto per dritto Stiamo giocando malissimo Ma sì ma perché L'avversario Mi fa passare la voglia Cioè è troppo facile Questa partita di Magic Cioè guarda Niente Cioè Possiamo perdere No brothers No brothers No brothers Perché dovrebbe fare Gargagozzo Lui adesso Sarebbe un po' Un problema Un problema E c'è scritto sulla terra Se entra in questo turno Ok Non l'avamo giocata Allora L'avamo giocata Allora Cerchiamo di non sottovalutare Troppo l'avversario Ho capito che è semplice Sembrerebbe La partita apparentemente Però un attimino Un attimino Un attimino Impegniamoci Non so se voglio Fortellazzare questo Fortellazzare questo No non credo di volerlo Fortellazzare Al momento Secondo me possiamo passare così Possiamo fare Frostbet sulla 1-1 Per non far attaccare Allo Obstruck Perché Brazzers Non lo voglio fare Sull'Obstruck Dobbiamo stoppare un attimo C'è la song Requestia Andiamo Eccoci qua Questo è molto male Ma assai proprio Dobbiamo vincere velocemente Quindi Molto velocemente Dobbiamo vincere Stornratt Credo sia abbastanza Useless Uselesshaven Lo togliamo anche Improvvisamente Perza Tipo Male Indubbiamente male Quindi entra Qua possiamo Perza E' quasi Quasi persa Quasi persa Quella è quasi persa Possiamo fare secondo me Brazzers Qua E Frostbite La Un po' Quasi persa Questa cosa Un po' Male direi Un po' Dobbiamo vincere Anche velocemente Quindi 3 4 5 6 6 Mana 6 7 Mana Volendo Quindi con Epifania Brasen Borrower Fine turno Lo faremo al 100% Mi farà sicuramente Oski Toski 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 Eeeh Poco bene Poco bene Poco bene C'è bisogno di fortellazzare Epifania La facciamo direttamente Dalla mano proprio Non penso di voler prendere 3 danni qua Ci sta probabilmente Giocare Lei tappata Ti vuoi passare Potrebbe fare anche Gargaroth Quindi per questo Ci stiamo tenendo Open Is how it coming Poi dobbiamo impilare Svariate epifanie L'avversario è a 20 Nella partita Improvvisamente È diventata difficile Proprio come avevamo Richiesto Fondamentalmente Non ci possiamo lamentare L'avevamo richiesto Che fosse più difficile Questa partita Ok Eh sì È incanterabile Ovviamente Ovviamente È incanterabile Delmo 6-2 Ottimo Ottimo Sì Più o meno Penso di sì Però mi sa che non ne può perdere Troppe altre Mi pare Mi pare Penso che farò opt qua Buon Crusher Giant Credo che sia Una decente Pescata di Magic Quindi ce la peschiamo Di Brazzers Fine turno Oh Oh Signor Double Visioni Signor Double Visioni Proprio lui Proprio lui Spero di non morire Però questo è molto buono Molto buono Quindi questo lo appoggiamo First instant Our source Seri In ogni turno Molto buono Molto buono Molto buono Molto buono Vinza Molto buono Questo Double Visioni Molto buono Passiamo Se non moriamo Se non moriamo Vinciamo Se non vinciamo Moriamo Adesso posso sparare Quasi quasi Si pesca una carta in meno Dico che ti fa schifo Che si pesca una carta in meno Che ti fa schifo Che si pesca una carta in meno Il ragazzo Mi sa che era meglio No Pot Eccoci Se fa top 2 Se fa 7-2 dovrebbe entrare Sono 9 turni quindi Andiamo a pochi set in tutto ciò Spero non faccia gargagozzo Potrebbe essere un po' problematico L'avversario ha molti 15 15 punti vita sono tanti No Veramente la Ma chi si pazza Perza Ma che pazzo l'avversario Veramente Veramente Su Brazzers Vinza Veramente Su Brazzers Doppio Nexus Delle fate Sì 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 Parenzo Sì Behold the Multiverse Sì Lo faccio due volte Sì Sì Due volte Behold the Multiverse Vinza Vinza Sainderklasm No Sainderklasm Mi ammazzo tutto No 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 Brazzers Sì Sì Brazzers mi piace Non so di sì Questo No cerco altri Altri Nexus Cerco altri Nexus Voglio altri Nexus Delle fate Così giochiamo Sì Sì Dammi altri Nexus Delle fate Maledizione Un altro Double Vision Ma si cumula Ma che sei pazzo Che si cumula 4 4 8 Cerchiamo altri Nexus Delle fate No niente Nexus Delle fate Buon Crusher Giant Imps No niente Nexus Delle fate Prendiamo l'isola No 4 sberle Un altro Sì penso che si copia Sicuramente In realtà Sono 4 8 Double Visioni 4 8 9 10 11 12 C'ha voglia Vinza E fallo Un Double Visione Che non lo fai mai Bam 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 Penso che la prossima volta Che gli si Celerà davanti Questa figurina Anzi questa figurina Di Magic L'avversario Quando avrà un binding Di Old Gods Lo farà su Double Vision E non su Brothers Brothers Borrowers Penso Penso Che bello Cioè che la canzone Le è piaciuta Abbastanza Dario Abbastanza Limited questa sera Limited tutte le sere Sempre Non ho ascoltato niente Sì sì è vero Quasi non ho ascoltato Però la canzone Mi è piaciuta lo stesso Bene Bene Questo Dievon 2 È proprio facile 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 Quindi Come vi è sembrato Double Vision Come vi è sembrato VandaVision Lo chiamiamo VandaVision Anche se non l'ho visto Però è mainstream Quindi lo chiamiamo In modo populista VandaVision Questo mazzo Beh 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 Piaciuto? Ci vedo doppio Un mazzo bello Di Magic Un mazzo bello Di Magic Lo riguardiamo al volo Cari amici Della magia notturna E cari amanti Della magia Su Youtube Due opt Perché così Giusto per oleare Gli ingranaggi Frostbite Vabbè Fortissimo Miglior rimozione Del rosso In questo momento Costo 1 Glimpse The Cosmos Riutilizzabile Attraverso Bon Crusher Giant E Faceless Heaven C'è attraverso Smashing Beh è anche una terra Perché no Brasenborro Il classico Bon Crusher Giant Vabbè Il classico Soviet Cumming Il counter Che decide Il signor Mattias Leveratto Perché questo mazzo È di Mattias Leveratto Lo possiamo dire E Raldic Banner Praticamente è un Acceleratore di mana Che se dici Blu I piccioni Fanno Quattro danni Invece che due Che sono molti Danni Effettivamente Behold the Multiverse Ottimo Peschino In questo momento Il migliore Nella magia Blu Stormwrath In un mondo pieno Di mazzi A creature Stormwrath Di mazzo Potrebbe essere Una scelta buona Soprattutto Stiamo parlando Di un mazzo Control Gravelor Peschino Bello Grusso Però più da Matchup Control Abbiamo la mana base Tutta in nevata Quindi ci sta Assolutamente Giocarlo VandaVision La star Indiscussa Di questo deck Che ti fa fare Innumerevoli Turni infiniti Sì Non è difficile Fare turni infiniti Noi siamo stati Un po' Sfigati Tra virgolette Anche se Molto fortunati Perché l'avversario Ha deciso di non Distruggerci Questo incantesimo Siamo stati sfigati A non fare Turni infiniti Perché è facile Che fare i turni infiniti Con Double Vision E Arrond Epifani Cioè fai Arrond Epifani Hai un turno Proprio Hai due turni extra Quindi Un turno In cui puoi fare Quello che puoi In cui puoi raddoppiare Gravelor Cioè lanci un Gravelor Subito dopo Arrond Epifani Con Double Vision A terra Cioè te lo trovi Sicuramente Un altro Nexus Un altro Arrond Epifani Nexus of Birds Quindi sicuramente Vai a fare veramente Turni infiniti Finché l'avversario Non crepa male E poi ovviamente Sì Il Nexus Il Nexus Degli uccelli gommosi Che torna Sprezzante del pericolo Anche in questo mazzo Una delle mie carte preferite In fin dei conti La Sideboard Beh Anti-aggro Red Cap melee Quindi anti-rosso Negate Anti-control Cinder Clasma Anti-aggro Scorching Drunkfire Ovviamente anti-aggro Shattered Sails Spacca Great Angel Spacca il Dead Gold Spawn Dragon Mystical Dispute Ovviamente contro Mazzi a base blu E Ox dell'agonia Contro Fatine Nonché anche contro Mazzi Control Probabilmente ci sta Abbastanza bene Ocelli gommosi Ovvero Dildi Sì se vuoi Se vuoi anche Dildi Sì Lei però è cattivo Tipo un paio di settimane Faglio Ho linkato questo mazzo E mi ha quasi deriso In realtà è Diali Eldrazi Davvero L'ho derisa? Beh Mi dolgo E mi pento Con tutto il cuore Di i miei peccati Perché Cando ho meritato Gino Paoli Ho meritato Gino Paoli